Cari amici, sono passate poche ore dal massacro in Nuova Zelanda dove un suprematista bianco è entrato in due moschee, ha fatto 49 morti e decine e decine di feriti. Un atto veramente spregevole e disumano. Sono passate poche ore ma i commentatori italiani hanno già trovato il colpevole oppure il mandante morale e il mandante morale sarebbe il sovranismo, sarebbero i movimenti identitari, sarebbe chi vuole controllare i flussi migratori, sarebbe chi segnala, chi ritiene che l'immigrazione islamica sia quella più difficile da integrare. Questi stessi commentatori sono quelli che a parte invertite quando è l'islamico, quando andare a sparare ai cristiani, ci vengono a raccontare che si trattava di un pazzo isolato, matto e quindi l'islam non c'entra niente. No, qui noi invece vogliamo fare i conti con la realtà, vogliamo che questi estremisti di destra siano repressi con la massima durezza, la stessa che vorremmo vedere applicata anche nei confronti dei fondamentalisti islamici e questo osceno massacro perpetrato da questo stronzo maledetto non deve farci ricredere su quelle che sono idee giuste e che non hanno a che vedere con la violenza, sono le idee che ho ricordato prima, cioè il controllo dei flussi migratori e una particolare attenzione per l'integrazione o la mancata integrazione degli islamici. Una tragedia, la violenza è sempre disgustosa, preghiamo per chi ha perso la vita.